Alberto ci siamo messi alle spalle anche il 2023, adesso guardiamo con speranza, con preoccupazione o con chissà quale altro sentimento al 2024. Allora, visto che in uno dei video passati abbiamo valutato un po' l'accuratezza delle nostre previsioni, per il 2023 molti dei nostri affezionati e affezionati fan, ci hanno chiesto di fare una previsione anche per il 2024. Vediamo se siamo altrettanto curati o magari anche più accurati di quanto lo siamo stati nel 2023 o se è stato solo un colpo di fortuna. Però prima che ci addentriamo in questo esercizio divinatorio, vi ricordo di darci una mano per essere un po' più visibili sia su YouTube che sui social. Se vi iscrivete ovviamente ci date una grande mano, se commentate l'engagement è sempre un fattore che all'algoritmo di YouTube piace, se diffondete presi i vostri profili social queste nostre chiacchierate, linkando il video, le puntate, insomma quello che vi è piaciuto su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, su TikTok. Ecco, questo ci aiuta ad essere un po' più presenti, di avere un seguito più ampio e quindi di poter diffondere meglio queste nostre elucubrazioni e le analisi, se vogliamo essere un po' più sofisticati nel linguaggio e le considerazioni che facciamo ormai da diversi anni. Bene, tenete il pistolotto sulla diffusione delle nostre puntate, iniziamo la lista dei temi su cui ci vogliamo esercitare. Poi tra l'altro potete anche suggerire qualche altro tema, se nei commenti ci date un'idea di quello che potrebbe essere interessante, sempre su temi di cui ci occupiamo, insomma venite a chiederci sul campionato NBA in America o che ne so, su chi vincerà Sanremo, proveremo insomma a farci un'idea, magari se non abbiamo un'idea precisa abbiamo qualche libro, leggiamo qualche studio e vi riporteremo quello che ci suscita, quello che suggerisce l'informazione sul tema. Alberto, allora cominciamo con che cosa? Con il mercato azionario? Sì. Da dove cominciamo? Dall'America o dall'Europa o dall'Italia anzi? Ma io incomincio dall'America perché poi del resto me ne importa poco. Ok. Allora questo è stato un anno piuttosto scoppiettante per le borse, era cominciato maluccio però poi nel corso dell'anno ha recuperato abbastanza presto e l'anno è finito praticamente sui massimi. Domanda naturale, ci sarà un altro anno simile o questi massimi rimarranno massimi appunto per un bel po' di tempo perché poi ci sarà un ritracciamento? No, io penso che il mercato azionario americano, perché partiamo da lì, perché tutto si irradia da lì, io credo che il mercato azionario americano faccia un più 6. quindi una tra il primo gennaio, 2 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 la borsa americana, quale indice, lo Standard & Poor's 500, l'S&P 500 aumenterà insomma di qualche punto non una performance molto brillante però ancora soddisfacente. Io credo che, allora, facciamo una premessa, i mercati azionari non possono essere slegati dall'economia reale, cosa che molto spesso si dimentica. Allora, a seconda di chi fa i calcoli, a seconda di chi... scusami? Abbiamo dovuto parlare dell'economia prima, di fatti, che dei mercati azionari, non è il bel modo di partire questo. Bene, ma tanto è il modo un po' anglosassone, dite all'inizio qual è la tua conclusione e poi spiega il perché ci sei arrivato. Invece in Europa facciamo il processo inverso, prima facciamo il grande spiegone e poi alla fine diamo le conclusioni. Comunque, per tornare all'economia, più o meno l'80-85% delle performance azionarie sono legate all'andamento macroeconomico. Non esistono casi in cui l'economia è andato in recessione e il mercato azionario ha fatto favore. Quindi ricordate, e questo lo dico anche a chi segue gli analisti, quelli che fanno dei grandi discorsi sulle rotazioni, sugli indici, sulle svidda, ai multipli, eccetera, 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 che alla fine della fiera, insomma in ultima analisi, è l'economia che fissa il tono dell'andamento borsista. Quindi in America quest'anno è andata abbastanza bene, la crescita è stata abbastanza sostenuta. L'anno prossimo si parla di 1.5%. Perché l'effetto del Covid va scemandosi, l'effetto di tutta questa valanga di soldi ribaltata sui consumatori sta scemando e quindi ci sarà sicuramente un tentativo di controllo del bilancio pubblico, quindi un rientro sul deficit. Altre economie non vanno sicuramente meglio, per cui 1.5% è la stima del Fondo Monetario, credo. Sì, sì, ma stima più o meno di consenso. Quindi con un quadro macroeconomico di cauto ottimismo, di crescita non particolarmente brillante, però tutto sommato ancora positiva, la borsa dovrebbe più o meno rimanere entro, diciamo così, una performance discreta, ma non danno, non da staffo di bottiglie di shampoo. Però c'è un altro elemento che soprattutto nei passati 15 anni, ma anche di più, ecco, nei passati vent'anni ha avuto un effetto, io lo chiamo effetto steroidi sull'andamento delle borse che è quello dei tassi di interesse, o per essere anche più precisi, la liquidità che le banche centrali immettono sul mercato. per ormai un periodo lungo che fa appunto dal 1987, dal venerdì nero della borsa americana, mai quasi 40 anni fa, fino al Covid, le banche centrali, quando l'economia era in difficoltà, inondavano, cioè abbassavano i tassi in modo drastico e poi, quando questo non è stato più sufficiente, hanno cominciato a comprare titoli di Stato, titoli anche di altri emittenti, per dare al mercato un'iniezione di liquidità che poi si è scaricata sui prezzi degli asset finanziari. E quindi questo è l'altro elemento che nel 2024 in qualche modo determinerà la performance delle borse, ora tutti si attendono, incluso noi, un allentamento della politica monetaria perché l'inflazione più o meno si è stabilizzata, è in rapida distrisa quasi ovunque, in Cina addirittura c'è deflazione e quindi il grosso dibattito tra gli addetti a lavori si incentra su quanto diminuiranno i tassi nel 2024. Ne abbiamo parlato anche noi quando abbiamo fatto questa verifica delle nostre previsioni, questo elemento sarà quello che si aggiungerà alla performance macroeconomica per determinare poi il risultato finale. Io credo che la Fed non deluderà le aspettative del mercato, il mercato adesso è molto ottimista sulla discesa dei tassi di interesse, io credo che ci saranno tagli sostanziali e quindi su questa base possiamo... 5 punti al trimestre, quindi da 5,5 a 4,5 contro il mercato si aspetta, il mercato si aspetta un 1% in meno. Io credo che potrebbero essere sorpresi positivamente dal loro punto di vista perché se l'inflazione è al 2,5 e la crescita è l'1,5% tendenzialmente è una misura un po' rosa ma il tasso a breve dovrebbe essere più o meno in linea con la crescita nominale. Non dovremmo parlare di inflazione, dovremmo parlare di deflatore del PIL, insomma adesso non entriamo proprio nei dettagli precisi, ma comunque se la crescita nominale è intorno al 4% la Fed può essere un po' più aggressiva nei tassi, soprattutto se ci dovessero essere dei sentori di recessione, quindi di rallentamento e soprattutto in un anno elettorale la Fed avrebbe qualche incentivo in più a dare una sforbiciata più sostanziale ai tasti. Ora io credo insomma con un quadro del genere mi spingerei anche ad ipotizzare una performance a doppia cifra, lower double digits direbbero i miei colleghi. Siamo ai massimi e sconta già l'abbassamento dei tassi, perché la doppia cifra ci dovrebbe essere un significativo aumento degli utili per azione. Vedo c'è l'impatto della diffusione dell'intelligenza artificiale di cui parliamo in seguito, eventuale possibilità che i tassi siano tagliati in modo più aggressivo, per cui credo a un aumento dell'indice del 6, tu dici 10 plus, stiamo a vedere. Io credo che, sai qual è il fatto perché mi spingo un po' più in là? Perché c'è tutto il settore tech che è un settore molto indebitato, tendenzialmente è un settore che tutto nelle parti più innovative ancora non produce utili, le start-up impiegano anni prima di avere bilanci in nero, in nero non nel senso che fanno che vado nel fisco, diciamo, bilanci con profitti positivi. E quindi quando i tassi interesse sono aumentati, c'è stato un massacro di aziende innovative, anche abbastanza grandi e questo fenomeno dovrebbe un po' invertirsi. Per questo io credo che c'è più, ed è, diciamo, questo effetto è non lineare. Quando i tassi aumentano la performance di queste imprese molto indebitate, molto innovative, subisce dei rovesti più che proporzionali rispetto alla stretta monetaria e il contrario avviene quando poi la politica monetaria diventa più accomodante. Bene, mi sembra che questo potrebbe... In Europa io non mi spingerei troppo a... Però ecco... In Europa sono viziati dall'aumento delle banche tra i nati e dagli aumenti dei tassi di interesse, hai capito? Esatto, è così. Poi le previsioni di crescita in Europa sono bassissime, sono più basse dell'America. C'è una discesa dei tassi che penalizza le banche, uno dovrebbe andare mercato per mercato, però io non ammazzardo a fare previsioni in Europa. Sì, anch'io non penso che sarà un anno particolarmente positivo anche perché finora le borse hanno festeggiato l'aspettativa di riduzione dei tassi e per le imprese non finanziarie. Per quelle finanziarie hanno festeggiato l'effetto aumento dei tassi, ma tra l'altro anche sulle banche non è che questo effetto può durare all'infinito, perché non possono continuare le banche a pagare interessi zero sui depositi o vicini allo zero con tassi attivi molto 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 più sostanziosi. Il momento magico secondo me va a esaurirsi anche nella parte più, diciamo così, che ha avuto nel 2023 le soddisfazioni maggiori. Italia, il problema della bassa crescita, insomma li conosciamo tutti, i problemi dell'Italia, o il PNRR effettivamente riesce a dare qualche effetto positivo oppure sarà un anno di magra. E poi c'è la stretta, il primo patto di stabilità, per cui io penso che in Italia il mercato italiano è troppo viziato dalle banche, non me la sento di fare previsioni. Ci saranno sicuramente le eccezioni, però ecco, siccome stiamo parlando degli indici, direi che siamo sceppici sulle possibilità di vedere nuovi massimi. La crescita mondiale è il 3%, 1,5% in USA e piatta praticamente sarà 1%, ma neanche in Europa. Sì, poi è un anno di elezioni europee, quindi in parecchi paesi ci saranno, non dico dei cataclismi politici, ma comunque dei cambi di orizzonti. Se per esempio Alternative für Deutschland dovesse effettivamente raggiungere e superare il 20%, che è quello che viene dato nei sondaggi, gli effetti, lo scossone politico sarebbe forte, quindi lì c'è un'incertezza politica, ma magari lo vediamo dopo nelle previsioni sul piano politico. No, sulla Cina, Alberto, la borsa cinese, tu che sei un... La borsa cinese è vista malissimo, stanno uscendo capitali, il governo è stretto dall'impossibilità di fare manovre di stimolo, c'è una sovrapproduzione, è vero che le aziende cinesi non costano niente, per cui un potenziale di rebound c'è. Io posso dirti che la borsa cinese può fare un più 10, visto proprio che costano niente le aziende. Però per un investitore che ragiona in euro o anche in dollari, insomma, in una valuta diversa dallo yuan, c'è il rischio di un ulteriore depreciamento dallo yuan, perché... Lo yuan rimane molto debole perché c'è la necessità di governo sostenere le esportazioni, c'è questo alto debito pubblico, per cui il governo fa di tutto per mantenerlo stabile, però c'è una forte fuga di capitali. Io proprio lo yuan non lo vedo forte. Quindi quello è un elemento anteriore di scetticismo, diciamo così, sulle possibilità di fare profitti sostanziali in Cina. Certo. Bene. Andiamo su altri temi che, insomma, occupano le prime pagine dei giornali. La guerra a Gaza. Secondo me dura tanto, gli italiani fanno 50.000 morti e svadicano Hamas. Scusa, ripendi un po' perché all'inizio si è sentito male, durerà a lungo, hai detto. Fanno 50.000 morti civili e sradicano Hamas del tutto. E poi che succede a Gaza? Quale sarà il destino? Poi sarà un protettorato israeliano. Ma lo daranno all'ANP, all'Apumazen, o sarà sotto, non so, governata da una qualche coalizione internazionale, magari con il sigillo dell'ONU, con la partecipazione di paesi tipo Egitto, Qatar, Giordania, e magari qualche paese europeo neutrale, non so, la Svezia faccio. Non riesco, sai cos'è, non riesco a fare valutazioni politiche di questo tipo perché non conosco abbastanza. Quindi lascio a te dare una valutazione, ma io sarebbe, io so solo che gli israeliani non si fermeranno mai. Guarda, lì io credo che però hanno un vincolo, ed è il vincolo economico. C'è troppa gente richiamata sotto le armi, c'è troppa gente che invece di lavorare e produrre deve partecipare all'operazione, insomma alla campagna a Gaza. Per cui io ho l'impressione che un altro paio di mesi, e poi non dico che ritornano tutti a casa, però il governo Netanyahu dichiarerà più o meno raggiunti gli obiettivi che si era prefisso, soprattutto se poi riesce a catturare o a uccidere i capi di Hamas, e a quel punto una grossa fetta di Gaza rimarrà in qualche modo sotto controllo israeliano. Un altro pezzo dove bisognerà poi udire la popolazione civile, perché i civili ormai non sono più, diciamo così, sono in una situazione di indigenza, qualche uno non si dovrà occupare, non penso che gli israeliani si vorranno occupare della ricostruzione, di trovare case, viveri, i mezzi di sostentamento per i Gazaui. Quindi in qualche modo dovranno affidare l'amministrazione civile, qualcuno che abbia voglia e mezzi di subbarcarsi l'impegno, altrimenti dovrebbe essere Israele a farlo. Rimaniamo così, perché tanto non... La guerra va avanti dall'estate, per me, per te invece dura ancora due mesi. Vediamo un po' chi ha ragione. Io penso che dentro febbraio i risultati decisivi verranno raggiunti e poi l'operazione, la parte più onerosa, più human intensive della campagna verrà ridotta e rimarrà solo l'esercito regolare a pulire le sacche di resistenza, a bonificare i tunnel, a occuparsi della protezione dei confini, eccetera, eccetera. Ovviamente la striscia di Gaza avrà una zona di sicurezza molto più ampia di quella che c'era in passato, in modo che gli sconfinamenti o le incursioni di ammasso di chi per esso possano essere scongiurati o quantomeno possono essere verificati, possono essere controllati in anticipo, prima che producano danni i gradi. e la cosa che è importante dal punto di vista della popolazione civile israeliana è che non cadano più razzi sulle aree urbane, sia quelle più vicine alla zona, insomma alla striscia di Gaza, tipo Ashkelon, sia quelle più lontane che... No, io credo che la guerra si diventi più vasta, non credo che intervenga l'Iran, credo che sarà una guerra lunga, faticosa, però implacabili saranno gli israeliani e farà molto danno a Biden per le elezioni, ma ne parliamo dopo. Ok, no, infatti anch'io penso che Hezbollah nel nord del Libano non ha voglia di intervenire anche perché, sai, in Libano ci sono città tipo Beirut che verrebbero inevitabilmente coinvolte nel conflitto, se Hezbollah veramente mette in piedi operazioni di vasta portata e il Libano non è assolutamente in una situazione da poter sostenere una guerra o, diciamo così, una campagna, una reazione militare di Israele. Bene, andiamo avanti. La guerra in Ucraina, questa è l'altra grande... Credo che alla fine si sbloccheranno i soldi europei, credo che si sbloccheranno anche i soldi americani, credo che al G7 si troverà un accordo per requisire i 300 miliardi di dollari russi e a questo punto, ho raggiunto questo accordo, nel corso dell'anno si arriverà un cessato il fuoco. Però non sono pessimista e non dico che Putin ha vinto la guerra, perché non sarà così. Ma il cessato il fuoco sarà negoziato o sarà di fatto? Prima di fatto, poi negoziato. E quindi tu pensi che Zelensky metta la firma sotto un cessato il fuoco non so, a marzo, a giugno? O magari prima delle elezioni in America, appena dopo l'estate? Alla fine sì, sarà costretto, perché anche gli ucrani a questo punto sono stanchi. Io credo che, allora, ci sono due, questo è anche secondo me lo scenario base. Io credo che il cessato il fuoco, la tregua, insomma, la stabilizzazione del conflitto avverrà per stanchezza di ambo le parti. Cioè sarà un accordo tacito o in qualche modo negoziato indirettamente o dagli Stati Uniti o da qualche paese europeo. non so, la Francia, che ha sempre avuto una posizione, addizionalmente, non dico in questa guerra, storicamente più vicina alla Russia, e quindi tolgono le castagne dal fuoco a Zelensky, che non dovrà presentarsi alla sua opinione pubblica dicendo ho firmato una pace o, insomma, ho raggiunto un accordo che però non prevede la reintegrazione del nostro territorio entro i confini pre-2014. Però, sai, questa, una situazione del genere, rende l'intera faccenda abbastanza problematica nel, diciamo così, nel dopoguerra, nella fase di ricostruzione. Perché? Chi è che si impegna a investire in una nazione dove la guerra potrebbe riprendere da un momento all'altro, dove la tregua è fragile. Quindi, i soldi dell'Unione Europea, o di chi per essa, potranno essere investiti per rifare le infrastrutture, per... Assolutamente sì, ma non è che a sto punto, a sto punto, non è che possiamo fare... I 500 miliardi si troveranno tra Fondo, Banca Mondiale, BERS, Unione Europea, BEI, si troveranno 500 miliardi su X anni, si farà una campagna a donatori, ma i soldi si troveranno per ricostruzione dell'Ucraina. No, su quello non ho... I soldi, anch'io sono convinto, non è un problema. Poi ci sono questi 300 miliardi delle riserve russe che, insomma, Putin strillerà come un'opca spennata, però alla fine, ecco, quelle potrebbero essere un'altra dotazione di risorse che iniziano quantomeno il processo di ricostruzione in Ucraina. Allora, detto, descritto questo come scenario base, però ci può essere lo scenario negativo e quello positivo. Quello positivo, dal nostro punto di vista, ovviamente, è che qualcosa ceda in Russia, che la crisi economica che adesso viene più o meno nascosta dai dati, che viene tenuta sotto la cenere o sotto il tappeto con vari mezzi e artifici, è invece scoppi che magari le elezioni per la presidenza, che si dovrebbero tenere a marzo, in cui ovviamente Putin è il candidato favorito, riservino qualche sorpresa, odiano la stura, qualche protesta, e ecco, allora, per farla breve, ci potrebbe essere un cedimento del regime o qualche scossone molto preoccupante del regime in Russia che cambia lo scenario, oppure dall'altra parte che non avendo l'Ucraina ottenuto il supporto necessario per tenere botta l'esercito russo che abbia carenza di mezzi, di uomini, di munizioni e che quindi la Russia riesca a dare un colpo di reni e a sfondare due o tre punti del... Fabio, se no non finiamo più, capito? Sì, sì, hai ragione, ma insomma, per farla breve, ci possono essere due altri scenari, uno positivo e uno negativo, che hanno probabilità non minime di verificarsi. Bene, procediamo. In un'altra guerra, diciamo, l'altro aspetto delle tensioni, soprattutto quelle in Medio Oriente, è lo stretto di Hormuz. Verrà bloccato, gli iraniani faranno delle ritorsioni sullo stretto di Hormuz, ma poi anche sul Mar Rosso, insomma, sull'ingresso nel Mar Rosso, dove gli uti prendono di mira il traffico commerciale per infliggere danni. Loro dicono alle navi che portano merci in Israele, in realtà poi coinvolgono tutte le navi, non solo quelle che abbiano qualche legame con Israele. Io credo che lo stretto di Hormuz non verrà chiuso, anche perché da lì passa il petrolio iraniano, quindi sarebbe una mossa che danneggia anche l'Iran. e l'accesso al Mar Rosso, visto che stanno arrivando le navi contingenti e tutte le squadre navali inviate per ristabilire l'ordine, tra qualche settimana la faccenda dovrebbe essere finita. non so come la vedi più alberta. Non so come la vedi più alberta. Non so come la vedi più alberta. Anche l'India ha accettato di far parte della forza multinazionale, che è un passo molto importante, quindi dei grandi paesi rimane fuori solo la Cina, che tra l'altro è una beneficiaria di questo, perché molto traffico cinese passa di lì, però il fatto che la Cina abbia accettato di partecipare alla missione è un ulteriore elemento che le pressioni saranno sempre più forti per poter... Scusa, l'India abbia accettato di far parte della missione? No, che ridicolo che la Cina non abbia accettato, ma probabilmente nessuno l'ha invitato. La Cina comunque ha una base militare a Gebuti, eh? Qui però non è una base navale, credo. Sì, 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 è una base anche... Insomma, c'è un contingente cinese... È una base navale. Sì, è una base navale, non ha una flotta in permanenza, o almeno non ha una flotta significativa, però è stata proprio una delle prime, se non addirittura la primissima base navale fuori dalla Cina che hanno organizzato, che hanno impiantato i cinesi. Quindi, a testimonianza del volo cruciale che ha quel tratto di mare. Io, nella Cina, alla fine, boh, non serve, ecco, c'è abbastanza... ci sono abbastanza risorse, ci sono abbastanza navi di tutte le altre nazioni. Io posso segnalare che l'ingresso dell'India è molto importante perché vuol dire che c'è un consenso allargato per finire quella storia, la pressione si fa molto più importante, a questo punto intervengono anche gli altri paesi arabi, quindi quella cosa dovrebbe finire, il traffico dovrebbe riprendere naturalmente. Quella è sempre stata, lo dico per chi magari non fosse al corrente o l'avesse dimenticato, quella è sempre stata un'area molto turbolenta perché prima degli uti c'erano i pirati somali, quindi ci sono state diverse missioni antipirateria a cui ha partecipato anche l'Italia e per esempio c'erano navi militari italiane, addirittura anche la porta aerei, la Cavour, è andata in quell'area con intenti, diciamo così, con un mandato umanitario, però insomma, le aree da guerra quando ci sono poi stanno presto a cambiare il mandato e ecco, diciamo che da quel punto di vista l'area ha sempre dato problemi e adesso che le tensioni si stanno acquendo anche i problemi nello stretto di mare tra Yemen e Somalia diventa un hotspot. Bene, andiamo sulle elezioni USA e le elezioni del Parlamento Europeo. altre guerre, è sempre possibile un conflitto nel Pacifico perché la situazione tra Filippina e Cina è rovente in questo momento per quanto non ci siano più le da parte cinese le provocazioni nei confronti delle navi americane però è sempre possibile uno scontro, ci sono le elezioni a Taiwan dovesse vincere il partito indipendentista come è probabile l'area diventerebbe molto molto calda per cui dobbiamo abituarci alla possibilità di un cigno nero che non è neanche tanto un cigno nero improvviso nell'Asia considerando il problema Taiwan il problema Filippina e il problema Nord Corea. Quello in ogni previsione quello c'è un cigno nero che è un cigno grigio insomma. sentivo Niall Ferguson qualche giorno fa in un podcast agli Stati Uniti ovviamente diceva se uno guarda freddamente la situazione cioè se io fossi un consigliere di Xi Jinping diceva Niall Ferguson direi questo è il momento ideale per attaccare Taiwan perché l'America è impegnata su due fronti in Ucraina e in Israele e quindi con l'Iran la situazione dal punto di vista delle tensioni è già abbastanza alta per cui magari gli europei non hanno particolare voglia di intervenire nel conflitto e poi ci sono le elezioni in America per cui Biden è una situazione in cui è una situazione da una trazoppa dall'Indac avrebbe fatica farebbe fatica a organizzare una risposta efficace quindi se la Cina bloccasse Taiwan cioè non invadisse ma organizzasse un blocco e per l'America si propone il dilemma Taiwan deve ricevere 20 miliardi di armi dall'America che ha ordinato e parzialmente pagato quindi Taiwan ci sta riammando molto quindi a Xi Jinping converebbe attaccare prima perché l'America non è pronta e Taiwan non ha in serie armata il posto sostanziale per cui il rischio c'è lo diciamo solo così per per completezza di informazione allora visto che abbiamo parlato delle elezioni USA a che punto siamo secondo te Alberto tu che hai notizie fresche da oltreatlantico delle elezioni USA io purtroppo vedo Trump inarrestabile non vedo che cosa possa impedire a Trump di cosa possa sbarrare la strada a Trump dall'essere diretto perché Biden è molto basso nei sondaggi la gente non gli fa pagare molto l'inflazione è vero che l'economia è stata ottima però la gente ha visto l'inflazione si sente è vero che l'economia è stata ottima i salari hanno recuperato c'è stato un forte aumento dei salari nonostante ciò la gente ritiene causa inflazione di stare peggio poi dopo c'è il problema del perdono dei debiti studenteschi che è un bubone incredibile che è passato a metà su cui Biden contava molto per avere il voto dei giovani che è passato a metà e la generazione Y e Z che dovevano ripagarlo politicamente di questo non è soddisfatta di quello che è stato la bonifica dei debiti studenteschi anche perché la Corte Suprema ci si è messa in mezzo Biden non ha avuto un effetto politico positivo da quello in più c'è la guerra a Gaza che gli sta inimicando tutti i giovani perché i giovani americani sono a favore dei palestinesi c'è poco da fare tutta l'ala sai se sono a favore dei palestinesi non è che votano Trump questo è una cosa cioè non ci vanno a votare basta e quindi ci sottratti a Biden capito per cui Biden lo vedo in America gira voce che alla fine si cambierà cavallo e si sceglierà Newsom però le altre volte che ci hanno provato con Truman e Johnson non è andato bene non so neanche se possa andare questa volta o se ci siano i tempi per farlo mi sembra che siamo molto in ritardo per poter fare un cambio di cavallo no so questo io pure io penso che alla fine in qualche modo i democratici dovranno e soprattutto Biden dovrà rendersi alla realtà i sondaggi ho visto gli ultimi insomma su Wall Street Journal erano praticamente impietosi perché questa è la prima non la prima ma una delle rare volte in cui sono contendibili la Presidenza il Senato e la Camera e quindi in tutte e tre queste elezioni i repubblicani sono in vantaggio sono in vantaggio abbastanza forte di fronte alla quasi certezza l'altissima probabilità che il Partito Democratico prenda una scoppola epocale io credo che i maggiorenti in qualche modo prenderanno delle contromisure insomma cercheranno di fare qualche cosa che questo qualcosa sia efficace non è detto però Biden io lo vedo sempre meno probabile candidato democratico per novembre ma se anche fosse secondo me Trump vince lo stesso vince contro qualsiasi candidato e poi i candidati non ci sono quasi per esempio nei sondaggi sempre per le elezioni di novembre la Haley Nikki Haley che adesso è un po' quella che è sulla cresta dell'onda ma non c'entra niente capito tu pensi che Trump tutti questi guai giudiziari li ripassa indenne sì assolutamente sì non ci sono i tempi tecnici e la corto per esempio vai vai Alberto non volevo interrompere come sua sono sei sono sei repubblicani di quei tre democratici di cui tre appointed da lui per cui Trump se la passa indenne il problema nessuno si sogna di non è facilmente sostituibile sono tutti disperati però dovevano pensarci un anno fa a sostituire Biden troppo tardi adesso ma un anno fa era ancora in testa ai sondaggi quindi e non solo ma veniva dalla non dico vittoria ma dal risultato piuttosto positivo nelle elezioni del 22 nelle elezioni in interno quindi penso che uno il G7 approvi l'appropriazione dei 300 miliardi di Putin perché sa che con Trump non riuscirà a ottenerla e Trump la ritirerà e quindi per pararsi contro l'eventuale termine dei finanziamenti americani con un governo Trump con una missione Trump gli europei faranno carte false per approvarla al G7 perché adesso solo gli europei sono sono fragili mentre invece Canada Giappone e America si sono detti favorevoli alla requisizione dei 300 miliardi di Putin che sono per la maggior parte in Europa quindi è molto importante il voto degli europei però gli europei di fronte a un governo Trump che sicuramente non sarà non sarà positivo perché Trump qualche problema qualche soggiacenza Putin ce l'ha difatti tutti si domandano quanto Trump sia ricattabile da Putin quindi mi fa pensare che i 300 miliardi per l'Ucraina vengano fuori bisogna anche dire che questo gioca perché Putin non ha nessun interesse di fare ha l'interesse di aspettare le elezioni di Trump perché sa che con Trump chiude la guerra a Ucraina il migliore possibile e questo mi fa quindi ci sono due pesi però credo che tutto sommato ci servia un accordo ma sai se è vero che Trump si disinteressi dell'Ucraina una volta che no no fa un favore a Putin ma dico quello che voglio dire diciamo se Trump è pro Putin o comunque non ha nessun motivo di dargli contro per Putin la cosa migliore sarebbe fare un accordo cioè congelare il conflitto adesso e poi rompere la tregua una volta che Trump ha vinto le elezioni perché a quel punto Trump diceva beh vedetevela voi europei io di queste faccende non mi voglio occupare l'Ucraina non è una questione essenziale per l'America sono dispute territoriali europee le solite beghe in cui noi non vogliamo essere coinvolto quindi anche quello è un rischio va bene dai facciamo altri due temi elezioni per il Parlamento europeo così come si stanno mettendo le cose è probabile che i risultati combinati di stiti come Alternative für Deutschland quello di Gert Wilders Vox Marine Le Pen poi anche Meloni e Salvini in Italia cambino un po' la geografia nel Parlamento europeo nel senso che queste forze anti-europee nazionaliste sovraniste chiamiamole come volete otterranno una buona performance però non abbastanza buona da mettere in dubbio come immaginava magari Meloni l'attuale coalizione di popolari socialisti e liberali che determina un po' le sorti delle istituzioni europee quindi da un punto di vista sostanziale non dovrebbe cambiare granché però da un punto di vista dei temi di cui si dibatte dell'agenda su cui ci si accapiglia dei temi portati all'attenzione dell'opinione pubblica dopo le elezioni europee secondo me ci sarà un po' un cambio di passo e questo significa per l'Italia cattive notizie o se vogliamo notizie non particolarmente gradite perché tutti questi partiti anche se sulla carta sono alleati e sodali di Salvini e Meloni poi quando si devono decidere questioni come l'immigrazione il PNRR il sostegno ai paesi indebitati eccetera eccetera non avranno grandi simpatie per l'Italia anzi l'Italia diventa diciamo l'obiettivo ideale per gli strali di questi soggetti insomma di queste forze politiche anti-europeiste detta in modo semplice se poi Alterna di Fjordoi non dovesse avere il 20% dei voti le cose anche in Germania cambiano perché si vota fra non molto o addirittura c'è chi dice che l'attuale coalizione non riesce a reggere per cui si potrebbe andare alle elezioni anticipate e se ci fosse per un qualche motivo un ingresso di Alternative Fjordolzian al governo non è probabile ma non è nemmeno da escludere le cose prenderebbero decisamente una piega preoccupata e i primi a pagarne le conseguenze sarebbero Alberto sei con il microfono staccato tu quindi vedi una grande affermazione dei partiti populisti di destra in Europa grande magari no però sostanziale ecco e la lega come scusami lega in Italia io non credo che i risultati saranno molto diversi da quelli delle elezioni del 22 magari Meloni rosicchia qualcosina in più Salvini idem Vashlein perde un po' 5 Stelle hanno una performance un po' migliore lo scossone in Italia cioè le partite su cui c'è più incertezza in Italia non riguardano tanto i partiti maggiori secondo me che ripeto un per cento in più due per cento in meno più o meno non avranno effetti dirompenti sulla politica interna italiana ne avranno un po' a livello europeo per la quota che diciamo l'Italia conta a livello continentale però c'è forse Italia che per esempio potrebbe non raggiungere il 4% e poi c'è il cosiddetto terzo polo ex terzo polo quindi Calenda Renzi ci vogliamo mettere anche più Europa dentro a giudicare dalla situazione attuale dai sondaggi e da tutto il resto dal contesto questi non raggiungono il 4% quindi non manderanno rappresentanti al Parlamento europeo e stiamo parlando di un'area che è un 10% non un'area enorme però anzi anche un po' di più perché se consideriamo i risultati delle elezioni nel 22 forse Italia azione Italia viva e più Europa erano in totale ben sopra il 10% quindi speriamo che dalla che dall'esperienza negativa ecco qualcuno tragga le elezioni non sono particolarmente ottimista ma quello secondo me è l'area più quella secondo me è l'area più interessante cioè è l'area su cui bisognerà guardare per vedere elementi per notare per individuare qualche elemento di novità il resto mi sembra abbastanza cristallizzato a meno che non ci siano gli scandali gli scossoni che la rivalità tra Salvini e Meloni non esploda in forme tipo alzata d'ingegno del papete di salviniana memoria ecco ma tutti hanno interesse più o meno a non a non dare adito a scontri di rompenti quindi saranno le solite scaramucce si becchetteranno rispettucci calci sotto il tavolo eccetera eccetera quello che abbiamo visto negli ultimi non so 12 13 mesi andiamo al punto 10 il punto 10 è la diffusione dell'intelligenza artificiale allora se noi guardiamo all'anno appena passato chat GPT partì a novembre 2022 nel 2023 c'è stata l'esplosione dell'intelligenza artificiale sono stati altri sistemi di intelligenza artificiale generativa come quello Bard di Microsoft ci sono altri progetti in ballo io vengo bombardato praticamente quotidianamente da pubblicità di nuovi sistemi non solo per produrre testi ma anche per le illustrazioni per le per i video per le animazioni eccetera eccetera quindi c'è proprio tutto un mondo che sta esplodendo e questo è avvenuto nel giro di 12 mesi sostanzialmente quindi questo processo allora accelererà in alcune direzioni per esempio già è in preparazione un programma che farà filmati prodotti dall'intelligenza artificiale cioè potrà fare film immaginate una cosa del genere che impatto può avere sull'industria cinematografica ci saranno regolamentazioni o richieste di regolamentazioni l'Unione Europea ha già iniziato il processo in America si sta riflettendo la Cina è un così ha delle esigenze diverse da paese da regime dittatoriale e io credo che il 2024 sarà l'anno in cui poi effettivamente l'intelligenza artificiale entrerà nel vivo dei processi produttivi cioè già adesso i programmatori quelli che scrivono i codici hanno subito un impatto abbastanza brutale con luce ed ombre ma è chiaro che la vita di chi faceva quel mestiere è cambiata per sempre bisognerà vedere quali applicazioni saranno utili per esempio nel marketing anche lì è in corso una rivoluzione è in corso una rivoluzione nel controllo dei processi produttivi nelle strategie di penetrazione nei mercati il 2024 ecco sarà l'anno in cui da curiosità da tecnologia di frontiera da innovazione di belle speranze o di grandiose speranze si passerà proprio al concreto con conseguenze che in questo momento è difficile prevedere ma sicuramente in borsa ci saranno degli effetti negativi e positivi perché poi quando c'è un'impetuosa diffusione di nuove tecnologie c'è chi perde e chi guadagna e nulla sarà più come prima per usare uno all'impetuosa guarda in borsa ha avuto un effetto molto positivo quest'anno perché ha fatto esplodere il Nasdaq adesso che nel 2024 abbia un impatto così importante una diffusione così importante nel giro di un anno io avrei detto giro di cinque anni non un giro di un anno magari forse come dici tu perché dovrei rivedere le stime di crescita del mercato azionario perché un'intelligenza artificiale che si espande vuol dire aumenti di produttività quindi aumenti di utile per azione quindi quello che il mercato si sta aspettando con grande con grande ansia perché l'abbassamento dei tassi era già scontato io però non ci credo in questa rapida diffusione entro l'anno mi sembra un po' eccessivo perché adesso questi modelli si fanno delle belle lettere fanno sul coding sono importanti ma ancora siamo a livello di di tanti errori capito sono ancora sono d'accordo sono ancora strumenti rozzi per tante cose soprattutto per le parti più creative tieni presente che a Hollywood c'è stato uno show però che è durato mesi degli sceneggiatori insomma di quelli che poi producono i contenuti perché si sentivano minacciati o addirittura avevano già subito conseguenze non è il campo non è il giro di un anno ho capito in prospettiva prendi non so in America già adesso esistono diverse città dove tu puoi chiamare un taxi senza guidatore questa è tecnologia tra virgolette vecchia è un'intelligenza artificiale di inizio decennio che trova applicazione adesso sulle strade quindi nella vita reale nel concreto se l'intelligenza artificiale se i progressi dell'intelligenza artificiale sono tali da rendere queste autovetture fidabili queste vetture senza conducente lì è facile ipotizzare che non solo i taxi ma poi tutti quanti vorranno la macchina che si guida da sola sai quanti pendolari preferirebbero dormire in macchina piuttosto che stare tanti problemi sai con queste macchine che guidano da sole tanti problemi ancora una macchina che guida da sola sarebbe fantastico un aumento di produttività del sistema capito mandi la macchina a farla spesa durante la notte la mandi in lavanderia si puoi programmarla capito di fare mille cose senza di te capito quindi sarebbe fantastico però però ancora ancora è un problema per le macchine guidare in città oggi sono già stati in una Tesla senza guidatore se c'era il guidatore però non faceva niente sono già stato ma c'erano già stato un anno fa con mio figlio e sì però insomma ancora ancora c'è della strada da fare però in molte città esistono già oggi puoi chiamare il taxi e quello ti porta dove vuoi e non c'è proprio il guidatore c'ha tutte queste telecamere sul sul tetto sul paramorti non lo provano ma sta andando più lentamente di quanto si pensasse ci sono dei piloti ma sta andando più lentamente di quanto si pensasse perché la strada è un casino ci sono un sacco di di eventi imprevedibili sì sì diciamo che a Napoli ci metteranno un po' più di tempo per avere le macchine a guida autonoma però sai in una città relativamente ordinata magari su percorsi che non coinvolgono i vicoli del centro storico vabbè comunque intelligenza artificiale tu dici che non ci sarà l'esplosione delle applicazioni io invece sono propenderei per effetti sostanziali ecco magari non rivoluzionari ma ne vedremo delle belle ecco nel 2024 va bene va bene io spero che tu abbia ragione allora che vogliamo che uscire un po' dal seminato e fare qualche ipotesi su cigni neri che per definizione non sarebbero prevedibili però ecco se vogliamo prevedere l'imprevedibile ci possiamo esercitare con riscaldamento globale possiamo aspettarci qualunque tipo di perturbazione da siccità inondazioni e quindi è questo il global warming ci regala innumerevoli casi di eventi catastrofici non prevedibili questo è questo purtroppo dobbiamo metterli in conto ossia siccità che danneggiano raccolti fanno aumentare il prezzo di prodotti agricoli sono sempre possibili inondazioni che comunque creano grandi danni alle economie queste sono sempre possibili e ci saranno purtroppo e saranno sempre maggiori siccome i cigni non sono imprevedibili eventi terremoti e maremoti non li possiamo non li possiamo prevedere delle guerre delle guerre ne abbiamo già parlato delle guerre in Asia dell'imprevedibilità di la Nord Corea però l'abbiamo messo tra le altre guerre non tra i cigni neri no sui cigni neri allora sui cigni neri ci metterei se fanno fuori Trump ecco quello potrebbe essere eh quello sarebbe un cigno nero no per esempio un cigno diciamo scuro è l'Argentina perché con Milei che ha deciso di fare sul serio cioè ha impostato la sua presidenza con una strategia ad alto impatto cioè con una strategia d'urto eh lì può succedere di tutto o che effettivamente rompe le resistenze vince le incrostazioni di decenni di peronismo mismanagement giunte militari e quant'altro e l'Argentina ha la possibilità di diventare veramente un paese economia fiorente oppure la rivolta le resistenze lo costringono ad abbandonare il paese in elicottero ecco questi sono i due esiti estremi e lì appunto l'Argentina potrebbe essere un nido di cigni di cigni neri parlare dell'Argentina potremmo dire io credo che Milet ce la farà io sono ottimista in questo periodo credo che Milet anche io diciamo così l'ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione no pure io penso che e fa bene a partire con questo shock all'inizio perché se no poi se si impantana perde smalto perde lo slancio eccetera per rompere le esistenze la strategia cold turkey tacchino freddo come la chiamano gli americani è quella che ha più probabilità di successo altri cigni neri sai per dire Putin in vista delle elezioni o appena Trump vince le elezioni invade l'Estonia quello è un cigno nero perché chiama in causa la Nato in un momento in cui c'è la transizione tra Biden e Trump tra un presidente che è debole e non nel cioè comunque è al pieno dei poteri però è una situazione di eh ultima ultima scena della sua presidenza un Trump che ancora non è pieno dei suoi poteri che però ha qualche simpatia o comunque non una avversione a Putin quello potrebbe essere veramente un cigno nero oppure no ma quello non è un cigno nero quello è una possibilità molto reale ehm però ma oggi nessuno ne parla quindi eh se dovesse accadere tutti caderebbero dal pero ehm l'altro cigno nero è che che ne so l'Iran spari abbia finalmente riesca finalmente dal loro punto di vista non dal nostro riesca ad avere la bomba atomica e cominci a pestare i piedi in tutto il Medio Oriente cominciare dall'Arabia Saudita per finire a Israele quello è un altro cigno nero eh dalle conseguenze imprevedibili un altro un cigno nero positivo potrebbero essere queste manifestazioni in Serbia che finalmente eh bonificano quel paese dove c'è un governo filorusso che rompe le scatole che da decenni è un fattore di instabilità eh quello magari una svolta democratica in Serbia è un cigno nero però con conseguenze positive sarebbe un cigno nero per Putin e eh un elemento positivo per noi senti Fabio abbiamo fatto dieci previsioni in un'ora e mezza a questo punto direi di incominciare a prepararci per l'ultimo dell'anno sì eh sì una diamo un mandiamo gli auguri ai nostri ascoltatori ai nostri spettatori e saremo con voi anche nel duemilaventiquattro ehm abbiamo sempre bisogno del vostro supporto come abbiamo detto all'inizio e per il momento eh vi lasciamo con la speranza di un di un duemilaventiquattro eh da incorniciare ciao a tutti ciao Alberto ciao Fabio tanti auguri a te famiglia e tanti auguri e la vostra bella famiglia a tutti voi che ci guardate e ci sostenete ciao ciao ciao